Sono la fornaccia Orsoni e ho il piacere di essere qui con Giulia Molteni, Chief Marketing Officer di Molteni Group. Ciao Giulia, puoi parlarsi un po' di te? Buongiorno, grazie innanzitutto di questo bellissimo invito. Io rappresento parte della terza generazione della famiglia Molteni. Mio papà Carlo è presidente, amministratore delegato. L'azienda è un'azienda di famiglia, nata ormai quasi 90 anni fa, è stata fondata da mio nonno e da mia nonna. Oggi siamo diversi cugini, oltre a mio fratello, presenti in azienda, ognuno con delle responsabilità ben specifiche. Nel mio caso io sono appunto responsabile del marketing e della comunicazione del brand Molteni e C, ma anche dei nostri brand d'ufficio, quindi Unifor e Citerio. Sì, perché parliamo di un grande gruppo industriale nel mondo dell'arredamento e una cosa che per me è assolutamente speciale è di proprietà della famiglia di origine. Quindi, chiaramente, oltre alle competenze professionali che bisogna avere in un ruolo come il tuo, penso che il senso di responsabilità e la passione inevitabilmente sia su un livello superiore alla media rispetto a persone che non sono così legate connessi all'azienda. No, no, senza dubbio. Devo dire che nel nostro settore le aziende familiari sono una costante, soprattutto quelle di successo hanno dietro delle famiglie. Forse perché è anche un business così tanto legato al prodotto e quindi non c'è niente di meglio di un sapere che viene trasmesso da generazioni. Come dicevi tu, la passione, che devo dire mio padre in questo è sempre stato bravo, ci ha trasmesso fin da piccoli. Mi ricordo i miei primi saloni verso i 9-10 anni, quindi assolutamente sì. E forse anche la tipologia di prodotto, proprio occuparci di casa, chi meglio appunto di una grande famiglia può capire quelle che sono le esigenze dell'abitare, dello stare insieme e anche di quelli che sono i trend globali, internazionali dell'abitare, dove appunto Molteni oggi è conosciuta in tutto il mondo e siamo a tutti gli effetti un'azienda globale. Siamo anche il primo gruppo indipendente italiano, proprio anche in termini di dimensioni, che lavora con i più prestigiosi designer internazionali. e quindi ci lega questa particolare caratteristica di essere sì familiari, ma anche in un certo senso globali e quindi con una struttura oggi anche manageriale.